La Rugby L'Aquila dopo la promozione in Serie A2 non intende fermarsi e rilancia in maniera forte il suo programma di crescita. Lo fa avarando il progetto La Next Generation e annunciando il tecnico pluriscudettato Umberto Casellato come coordinatore. La Next Generation sarà un vero e proprio incubatore che servirà a rafforzare ancora di più la sinergia già esistente tra La Rugby L'Aquila come società seniores e la realtà giovanile cittadina Rugby Experience. Il progetto per entrambi i sodalizi vedrà la formazione come concetto chiave e sarà dedicato ai tecnici e agli atleti. Per questi ultimi in particolare come spiegato da Umberto Casellato uno degli obiettivi principali sarà rifinire al meglio quella che è la fase di passaggio dalle categorie giovanili alla seniores. Io sono qui per il progetto per dare la perfezione a dei giovani che fanno un percorso con la Rugby Experience. Adesso vorremmo fare per un gruppo di giocatori proprio dargli l'ultima pennellata per dopo metterli nella squadra seniores. Se sarà squadra seniores bene, se sarà magari nelle nazionali o a Treviso o alle Zebre meglio ancora perché vuol dire che l'ultima pennellata, l'ultimo pezzo di formazione che ha fatto l'Aquila. Ce ne sono tantissimi in giro per l'Italia che aquilani che nel massimo campionato e anche ad alti livelli. Dal punto di vista poi del reclutamento il progetto La Next Generation vedrà dei test fisici dall'11 al 13 giugno dedicati a giocatori nati tra il 2006 e il 2013. E si guarda non solo ai giovani aquilani, si vorrebbe infatti allargare il bacino di utenza un po' a tutto il centro-sud. L'Aquila insomma vuole tornare a essere appieno un punto di riferimento del e nel movimento ovale italiano. Noi puntiamo a far tornare l'Aquila ad essere un hub per tutto il territorio, per tutto il centro-sud Italia. Lo è stato per anni l'Aquila come città, un punto di riferimento e quindi la prospettiva è proprio quella di accogliere tutte quelle potenzialità che magari attualmente il sud non riesce a esprimere. Noi dobbiamo puntare anche ad allargare un po' il nostro orizzonte e quindi partiamo sempre dai nostri ragazzi ma l'obiettivo è quello di essere attrattivi anche verso altri territori e portare qui delle potenziali eccellenze che poi staranno a noi far esprimere e far venire fuori.